Oggi vedremo una lezione molto importante, ci insegnerà come catturare l'umore. Lo sapete che per manifestare ciò che desideriamo manifestare è molto importante associare alla scena, alla visualizzazione, l'umore, e cioè come ti sentiresti se avessi quella cosa. Quindi lui attraverso questa lezione ci insegna come catturare l'umore. Troverete il messaggio di stasera molto pratico, non credo che disturberà nessuno, ma ci sono aggiustamenti da fare riguardo a ciò che l'uomo crede che Dio sia. E' ciò che Dio è veramente, ci viene detto nella scrittura, nella nascita dei gemelli che inizia il grande drama raccontato nella scrittura. Nelle vostre membra, e sto parlando ora non di qualcuno ma di voi, individualmente, nelle tue membra giacciono due nazioni, razze e rivali, fino dalla loro nascita. Una avrà il dominio, la più giovane regnerà sul maggiore. Genesi 25 e 23 Questi sono in voi individualmente. Ci viene detto che il più giovane, che naturalmente è il secondo, il secondo uomo, è il Signore dal cielo. Questo è il secondo uomo. Egli dorme in voi. Voi lo risveglierete. Ed egli diventerà il maestro. Egli regnerà. Al momento la maggioranza del mondo ne è totalmente inconsapevole. Così lui dorme e non regna. Quello conosciuto nella scrittura si chiama Gesù Cristo. Il Signore Gesù Cristo è la vostra meravigliosa immaginazione umana. Quello è Dio. Ora, l'intero vasto mondo è tutto in esso, non è altro che l'appagamento della fame. Questa è tutta la vita, l'appagamento della fame. E ci sono infiniti stati da cui il Signore può vedere il mondo per placare questa fame. Il primo uomo non può farlo. Può nutrirsi solo di ciò che i suoi sensi gli impongono. Ovunque si trovi, si nutre dei fatti della vita come vede i fatti. Ci vuole il secondo uomo per liberarsi da questa restrizione ed entrare in uno stato, qualsiasi stato del mondo, e nutrirsi di esso. E poi col tempo portare il primo uomo a nutrirsi di esso. Avete capito che il primo uomo non è altro che la nostra mente conscia, la mente egoica, la mente razionale, che non può vedere ciò che la mente, cioè si nutre solo dei cinque sensi, giusto? Ciò che il secondo uomo può fare. Ok? Ci viene detto nel quattordicesimo capitolo di Giovanni, «Non sia turbato il vostro cuore, né dovete aver paura. Voi credete in Dio? Credete anche in me? Credete anche in me? Credete anche in me?» Nello stesso capitolo vi dirà che lui è Dio, ma quale uomo crederebbe veramente che questa presenza dentro di sé sia Dio? Ora, e lì vi dice, «Sì tranquillo e sappi che io sono Dio», Salmo 46, 10. Questo non è un altro uomo che ti parla, a parte te stesso. «Sì tranquillo e sappi che io sono» e Dio. Riesci a crederci? Se puoi crederci, allora tutte le cose sono possibili per te, perché tutto è possibile a Dio. Matteo 19, 26. Può un uomo credere davvero a questo? Questo è quello che mi è stato detto nel Salmo 46. «Sì tranquillo e sappi che io» Metti la piccola parola «sono» lì ora. Ora ci viene detto «Egli dorme» e poi venne la chiamata. «Risvegliati, perché dormi, Signore? Non ci abbandonare per sempre». Salmo 44, 23. Egli dorme nell'uomo. L'uomo deve risvegliarlo. Non sa che la sua stessa meravigliosa immaginazione umana è Dio. Ora, nella casa del Padre mio ci sono molte dimore. Se non fosse così, vi avrei detto che vado a prepararvi un posto. Quando me ne sarò andato, verrò di nuovo e vi accoglierò in me, affinché dove sono io, siate anche voi. Giovanni 14, 2, 3. Ora, questa conversazione avviene in voi, individualmente. Parlo ora a me stesso. Nella casa del Padre mio, io sono il Padre. Ci sono innumerevoli stati di coscienza. Se non fosse così, vi avrei detto che vado a prepararvi un posto? E quando me ne sarò andato, verrò di nuovo e vi accoglierò in me stesso, affinché dove sono io, siate anche voi. Sono qui in piedi e i miei sensi mi legano qui, in questa stanza. Ma io non voglio essere qui, voglio essere altrove. Conosco il mio saldo bancario, conosco i miei obblighi verso la vita. Sono legato da ciò che conosco. L'uomo esterno si nutre di questo, ma vuole di più. C'è qualcosa in me, il secondo uomo che nasce al cielo, che mi sta dicendo che ci sono innumerevoli dimore in cui posso andare. Qui farei un piccolo, appunto, innumerevoli dimore vuol dire che ci sono innumerevoli stati di coscienza in cui puoi dimorare. Ci sono innumerevoli dimore in cui posso andare. Tu non puoi andare. Io posso andare e prepararlo per voi, ma quando andrò a prepararvela, vero di nuovo e vi accoglierò in me stesso, affinché dove sono io, lì sarete anche voi. Ora come faccio? Do un'occhiata al mio mondo e sono molto limitato. Tutto ciò che mi riguarda è qualcosa che vorrei sfondare, trascendere, vorrei diventare una persona più grande, una persona più sicura, dove sto facendo il lavoro più grande nel mondo. Tutte queste cose vorrei fare, ma la ragione mi dice che non le sto facendo e i miei sensi confermano la mia ragione. Ora, c'è qualcosa in me, il mio vero sé, che può farlo? Sì, la mia immaginazione può farlo. Nella mia immaginazione vado a preparare lo stato. In realtà vado nello stato e riempio quello stato con il mio essere e vedo il mondo da quello stato. Non penso a esso, penso da esso. Quando penso da esso, sto effettivamente preparando quello stato. Poi ritorno dove ho lasciato questo. L'uomo esterno e ancora una volta mi fondo con lui e diventiamo uno, ancora una volta. Ora lo porto attraverso un ponte di una serie di eventi che mi conduce alla cosa che ho preparato e lo porto con me e dentro nello stato stesso. Si nutre ora, letteralmente, di quello stato. Questo è ciò che io chiamo preghiera. Non la voto, non faccio petizioni, non chiedo a nessun essere del mondo, nessuno compreso quello che il mondo direbbe essere Dio. Perché quando trovi Dio stando fermo e sai che io sono e Dio, allora hai chi puoi rivolgerti per qualsiasi cosa in questo mondo? Se credi davvero alle scritture, stai fermo e sappi che io sono Dio. Salmo 46,10 Se non hai familiarità con le scritture, leggilo nel capitolo 46 dei Salmi di Davide, il diecimo versetto. Sii fermo e sappi che io sono Dio. Allora, a chi potresti rivolgerti? È una comunione interiore con sé, ma l'uomo parla con un Dio esterno e supplica un Dio esterno e implora un Dio esterno. Questo mi ricorda una cena che diede Williams Lyons Pelps. Se non sapete chi è, anzi, chi era, è stato uno dei veri grandi educatori del nostro paese in questo ventesimo secolo. Lui e la signora Pelps intrattenevano Edna Ferber, la scrittrice. Una volta quando si sedettero per cena la signora Pelps gli disse William, vuoi per favore dire la preghiera? Lui chiuse gli occhi, chienò la testa e dopo, forse dieci o quindici secondi, disse Amen. E lei gli disse Perché William non ho sentito una parola di quello che hai detto? E lui le disse Non stavo parlando con te, cara. La gente si siede per dire la preghiera come benedici le mani che hanno preparato questo cibo, ma tutte queste parole non significano nulla. Si va dentro e non si fa una petizione, ci si appropria. La preghiera non è altro che l'appropriazione soggettiva della speranza oggettiva. Io spero in questo e in quello, lo voglio come fatto oggettivo. Ora, devo andare dentro e appropriarmene soggettivamente. Così la preghiera è l'appropriazione soggettiva della speranza oggettiva. Questo è ciò che io chiamo fede in Dio, che non è altro che la fede nel mio sé. Perché il sé dell'uomo, la vera identità dell'uomo, è Dio. Questo è il Gesù Cristo della scrittura. Non vi rendete conto che Gesù Cristo è in voi? Mettetevi alla prova e vedete. Questo è ciò che ci viene detto di fare nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi. Leggilo nel tredicesimo capitolo, il versetto 5 di i Corinzi. Esaminatevi per vedere se state mantenendo la fede. Mettetevi alla prova. Non vi rendete conto che Gesù Cristo è in voi? 2 Corinzi 13 5 Bene, se Lui è in me, allora dove andrò a incontrarlo? Come mi rivolgerò a Lui? Lui è in me e nel mio stesso sé. Sono semplicemente in comunione con il mio sé. Ci sono innumerevoli stati nel mondo, quindi scelgo lo stato che voglio esprimere in questo mondo e non chiedo a te o a chiunque altro nel mondo se è buono per me. Non consulto nessuno. Rientra nella cornice della regola d'oro quello che sto chiedendo ora. Lo chiederei per un altro? Lo chiederei a un altro se quello che sto cercando ora per un altro è qualcosa che chiederei per me stesso? Bene, la regola d'oro è fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. Se tieni questo a mente non puoi sbagliare. Cosa c'è di sbagliato nel chiedere per un altro qualsiasi cosa in questo mondo che chiederesti per te stesso? C'è qualcosa di sbagliato nell'essere sicuri? Niente. C'è qualcosa di sbagliato nell'essere puliti, sani e decenti? C'è qualcosa di sbagliato nell'essere uno che contribuisce al bene del mondo? Cosa c'è di sbagliato in questo? C'è qualcosa di sbagliato nell'essere felicemente sposati, orgogliosi della ragazza che porta il vostro nome o l'è orgogliosa dell'uomo di cui porta il nome? Cosa c'è di sbagliato in questo? Dimenticalo. Tutto il vasto mondo è un campo da mietere. Non si sceglie questo o quella donna. Scegli lo Stato. Voglio essere beatamente felice e se lo fossi come vedrei il mondo? E come mi vedrebbe il mondo? Bene. Chiudi fuori il mondo e vai dentro e appropriati di quello Stato. E da dentro lasciate che i vostri amici vi vedano come dovrebbero vedervi se ciò che ora supponete di essere è veramente reale. Questo è il motivo per cui è intitolato Il discorso di stasera Catturare l'umore. Tutto questo si basa su questo stato d'animo. Leggiamo nel venticinquesimo capitolo del libro della Genesi e partorì due gemelli perché nelle sue membra c'erano queste razze rivali. Razze rivali fin dalla loro nascita chiamate nella scrittura Esau e Giacobbe e voi pensate fossero due individui vissuti migliaia di anni fa. No sono proprio qui in ognuno in questo mondo questi sono gli stati eterni di coscienza personificati nella scrittura come due ragazzini. La scrittura non è storia secolare è la storia della salvezza e quindi non sono vissuti migliaia di anni fa vivono ora in voi e voi dovete dare alla luce entrambi. Avete dato alla luce il primo il primo è il tuo uomo esteriore l'uomo che ora è un uomo dei sensi un uomo che è coperto di pelli come ci viene detto Esau usci per primo ed era coperto di pelli dappertutto. Che tu sia femmina o maschio sei coperto di pelli dappertutto questo è il te esterno l'uomo del mondo dei sensi. Poi arriva il secondo figlio ed è il ragazzo della pelle più liscia chiamato Giacobbe il nome Giacobbe significa soppiantare egli soppianterà suo fratello e il secondo ma verrà primo il secondo uomo è il signore del cielo e il secondo figlio è la vostra meravigliosa immaginazione umana quando la agitate la risvegliate e la fate nascere potete fare meraviglie in questo mondo provate ora tu sediti qui in questa stanza io sono qui potrei in un batter d'occhio mettermi fuori da questa stanza e vederla da lì e vedere l'interno di questa stanza non da questo leggio ma vederla dall'esterno questo è esercitare l'uomo interiore andate fuori mentalmente non fisicamente a vedere questa stanza dall'esterno mentre sono seduto qui posso mettermi nella mia stanza d'albergo al piano di sotto e poi vedere questa stanza e pensare a essa ma pensando dalla mia stanza al primo piano di sopra posso mettermi in qualsiasi parte del mondo e pensare da lì e pensare al mondo e a tutto il resto questo è il segreto pensare da ciò che voglio invece di pensare a ciò che voglio quando so quello che voglio in questo mondo quando lo penso è sempre al di là di me quando so quello che voglio entro in quello stato e penso a partire da quello mettetevi mentalmente nella vostra casa ora e guardate questo edificio questo club da casa vostra e vedete questo edificio non da esso lo pensate e lo state guardando dalla vostra stanza ora lo stato di coscienza a cui ritornate più costantemente il luogo in cui abitate realmente quello stato abituale da qui vede il mondo lo vedete dalla povertà dicendo io sono povero camminate per strada sentendo quanto sono povero allora state guardando il mondo dallo stato di povertà guardo il mondo dallo stato di uno che è completamente sconosciuto e indesiderato bene questa è la mia casa il luogo in cui ritorno abitualmente costruisce la mia dimora non ho bisogno di abitare lì nella casa del padre mio ci sono innumerevoli dimore se non fosse così vi avrei detto che vado a prepararvi un posto e quando andrò a preparare il posto tornerò di nuovo e vi porterò con me affinché dove sono io in quello stato preparato la siate anche voi quindi ora prendo uno stato voglio essere conosciuto voglio contribuire al bene del mondo voglio anche vivere bene e intendo bene voglio sentirmi sicuro non solo finanziarmente ma sicuro socialmente in modo che quando entro in una stanza non sono imbarazzato non importa chi c'è possono avere tutte le lauree del mondo possono venire da tutte le grandi università del mondo ed essere onorati dal mondo ma io voglio stare in loro presenza e non sentirmi piccolo voglio sentirmi un uomo non devo chinare la testa per la vergogna a causa di qualche restrizione del mio passato se sono nato dentro la palla otto socialmente finanziarmente intellettualmente non importa voglio sentirmi importante voglio sentirmi grande voglio sentirmi bene dunque che stato sarebbe se fosse vero io concepisco uno stato che se fosse vero farebbe avverare tutti i miei desideri entro in quello stato ora la prima volta che entro in quello stato e vedo il mondo da esso è meraviglioso ma potrei non rientrare mai più in quello stato pertanto non è la mia casa voglio fare di quello stato la mia casa perpetua in modo da dimorare automaticamente in quello stato e se vi dimoro in modo da essere automaticamente in quello stato esso diventerà la mia dimora quindi andrò a preparare un posto per te non sto parlando con voi sto parlando con me stesso ti presenterò Neville nato dietro la palla otto nato sconosciuto indesiderato povero tutto ciò che è semplicemente dietro la palla otto e ti prenderò Neville ora che mi hai trovato il secondo uomo è il Signore dal cielo la tua stessa meravigliosa immaginazione umana ora che mi risvegli ti porterò con me e mi soffermerò in quello stato e sentirò di essere Neville quell'uomo esterno che ho appena lasciato sulla sedia ho lasciato sul letto e vedrò il mondo come lo vedrebbe Neville se fosse con me ora vedo il mondo da quello stato e poi quando mi sembra naturale torno all'uomo esterno fisico che ho lasciato sulla sedia che ho lasciato sul letto e mentre ritorno ci fondiamo e diventiamo una sola persona noi due poi mi muovo attraverso un ponte di incidenti che non conosciamo realmente razionalmente semplicemente appaiono e mi muovo attraverso una serie di eventi che non determino ragionevolmente semplicemente accadono mi muoverò attraverso questo ponte di eventi fino alla stato in cui sono entrato e in cui ora dimoro ma quando ci arrivo mi sembra così naturale l'uomo che pensava a causa delle sue limitazioni passate di non poter mai entrare in quello stato ora si trova in quello stato non importa chi incontra lo incontra da quello stato ed è perfettamente naturale per lui questa è la storia che le scritture insegnano a te a me e a tutti nel mondo ma finché non troverete Dio che è il vostro stesso sé non ci riuscirete io mi fermo qui e domani partiamo da qui a sentire la seconda parte di questa lezione di come entrare in uno stato e di come catturare l'umore vi aspetto domani ciao grazie